Il 29 gennaio scorso la città di San Pietroburgo ha approvato in terza e ultima lettura una legge che rende illegale scrivere un libro, pubblicare un articolo o parlare in pubblico di omosessualità. Noi abbiamo appena finito le recite di Angers in America a Madrid e tutte le sere a Milano per due settimane abbiamo letto un comunicato in cui si chiedeva al sindaco di Milano di rinunciare al gemellaggio di San Pietroburgo. Siamo qua a Madrid, non siamo riusciti a venire alla manifestazione all'elfo il 7 di giugno perché eravamo qui a lavorare ma lo chiediamo adesso insieme, tutti noi, di rinunciare al gemellaggio perché con questa legge diventa una città indecente. Ciao! Ciao! Siamo con voi!